La filosofia del signor Ricci Una grande passione che diventa missione, emozione ed entusiasmo. La mia passione per la musica nacque a dieci anni e non è mai venuta meno. Quando mi chiedevano cosa volessi fare da grande rispondevo che volevo fare i dischi. La passione mi faceva sognare, perché da bimbo avevo già le idee chiare sui macchinari che avrei voluto utilizzare. Microfoni e registratori Ampex, ad esempio. Li cercavo già nei cataloghi e fantasticavo. La passione diventa missione nel settembre del 1983. Fino allora era solo una sorta di work in progress. Nel settembre del 1983 feci la mia prima registrazione ufficiale, finalizzata alla produzione di un disco in vinile, perché io sono nato a valvole e vinile. Il mio cuore è a valvole.